Perfetto! Il primo nemico è stato eliminato! Passo! Passo! Prendi il personaggio! Abbiamo un favore! Arrivare tutto per colpire quel personaggio! Con i nemici! Attenzione! Prendi questo tipo di medico! Botta! Spacchiamogli il culo! Siamo in testa! Passiamo gli affelli! Non so, non so, non so. 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 Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, 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 non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so.